Bene, io cercherò, ho messo un cronometro, cercherò di ridurre, scendere sotto i dieci minuti. Ho riscritto completamente per cercare di essere più essenziale, quello che vorrei dire. La ricerca è una ricerca difficile ormai e vorrei presentarla in maniera molto breve. La ricerca universitaria, non so appunto quanto abbiate seguito, ma insomma detta in poche parole, negli ultimi pochi anni, dal 2008, sono stati tagliati il 20% dei finanziamenti, il 20% dei docenti che sono andati in pensione senza essere sostituiti, il 20% degli studenti. Quando ci siamo impegnati a Lisbona di raggiungere addirittura il 40% di laureati, una impresa assolutamente impossibile che però altri paesi europei hanno già raggiunto. Per gli investimenti sulla ricerca noi siamo, all'università intendo dire, siamo dietro ormai anche alla Turchia che ci ha superato proprio di recente, nei paesi Ocse siamo proprio il fanalino di coda. Non ci sono fondi di ricerca, per molti anni l'unico finanziamento pubblico che serviva per queste cose i progetti di ricerca di interesse nazionali è stato assente. Nel 2015 è stata stanziata una certa cifra che servirà all'1% di quelli che concorrono a questi bandi, nel 2016 è stato realizzato il bando, nel 2017 forse avremo i fondi del 2015, quindi con due anni di ritardo. Quindi la situazione è tragica. Vediamo un attimo la situazione in soprintendenza e anche lì è una situazione che evidentemente non interessa la ricerca perché io parlo ovviamente da archeologo perché questo sono, ho lavorato per molto tempo in un museo quindi benché non non era un museo italiano ma insomma ho idea di quali siano i problemi. In soprintendenza pare che adesso secondo queste preoccupazioni del governo contino solo la velocità con cui si danno le licenze perché il territorio, cioè i musei hanno un qualche interesse perché fa bello, si può innescare un percorso turistico ma il territorio non interessa per cui gli archeologi in Italia hanno per tutto l'anno 18 mila euro per le missioni cioè praticamente neanche i biglietti dell'autobus si possono pagare. Automobili non esistono più e quindi il problema è particolarmente grave perché per gli archeologi? Perché l'archeologia ha una grana di tutela sul territorio che è particolarmente fina. Non si deve andare solo a vedere i monumenti esistenti, anche una pieve magari isolata però più facilmente identificabile. Un qualsiasi campo, la cima del Monte Bianco o nel fondo del mare può avere degli elementi da tutelare e quindi è ovvio che lì l'autobus non ci arriva. Dunque quindi il problema è molto serio e facciamo l'ipotesi che nonostante tutto in soprintendenza si riesca a scavare qualche cosa quando studiarla. Allora il problema della mancanza di tempo per studiare e per pubblicare è ben noto e quindi c'è una quantità di inedito spaventoso. Ma adesso con la riforma è destinato a diventare non un'eccezione o una percentuale grave di quello che si sa ma sarà la regola. Mi spiego brevemente. Quando si fa uno scavo bisogna poi pubblicare se no sono buttati i soldi della comunità. È uno sforzo che l'amministrazione ha fatto che la comunità scientifica, la società, il comune cittadino non saprà mai che cosa è successo perché si è impegnato lo Stato per tutelare una certa cosa. Finirà nei cassetti di qualche non si sa più quale archivio perché ormai con questo scombinamento in qualche magazzino anche lì c'è il caos quindi non si saprà più quale e dove pubblicare perché proprio tecnicamente allora se si fa uno scavo di intervento non un grande scavo di questi che appunto cambiano la storia dell'archeologia ma uno scavo di intervento di archeologia preventiva o cose di questo tipo e ce ne sono centinaia e migliaia in tutta Italia. Le due riviste nazionali notizie degli scavi e bollettino di archeologia non possono ospitare tutti questi micro interventi che però sono preziosi per capire il territorio, pianificare il territorio quindi tutelare e valorizzare e tutto quello che ne segue. Che cosa succede? Che allora le sovrintendenze archeologiche avevano le loro riviste ognuno in genere aveva una rivista che non esisterà più ovviamente. Allora che si fa? Si può avere 39 riviste di 39 sovrintendenze generaliste in cui c'è di tutto e che quindi nessuna biblioteca più vuole acquistare? Evidentemente no. Esisteva, esiste ancora per poco forse, una banca dati online dell'Associazione Internazionale di Archeologia Classica che aveva messo su un sistema complesso con la banca dati con gli ultimi scavi recenti, una rivista online con peer review di fascia A valutata dall'Agenzia Nazionale per la Ricerca che è parallela a una simile banca dati e rivista per i restauri archeologici e si stava progettando qualcosa di analogo per le ricognizioni. Questo c'erano una serie di convenzioni col Ministero dei Beni Culturali il quale prima dava 25 mila euro l'anno, poi 10 mila, adesso basta. Quindi a gennaio il fasti online, così si chiama questa banca dati, chiuderà. Quindi sarà tecnicamente impossibile far filtrare anche uno spillo di quello che le sovrintendenze generaliste olistiche, quindi sarà olistico nel senso che tutto quello che è stato scavato rimarrà inedito. Allora in effetti questo è vero olismo. Allora o ci rimbocchiamo le maniche e capiamo che senza la ricerca e senza la conoscenza non si può fare assolutamente valorizzazione e tutto quello che ne consegue, tutela e valorizzazione, oppure si esaurirà anche questi sforzi di valorizzazione, eccetera, si esauriranno da soli perché fisicamente mancherà la benzina, quello che c'è di innovativo, di ricerca, verrà meno e la ricerca di base non può alimentare l'applicazione che sarebbe la valutazione. Ho finito, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.